Amici di milan.soccer ben ritrovati, buona domenica, eccoci il giorno dopo Milan-Torino. Entreremo nei dettagli, vi diremo quello che è successo a fine partita, prima però lasciatemi fare le solite raccomandazioni, ovvero chiedere l'iscrizione, il like a questo video e l'attivazione della campanella. In basso invece potrete trovare sia la possibilità di visitare il nostro secondo canale, quello esclusivamente dedicato al Milan Under-23, Milan Futuro, che ieri ha vinto 2-1 con il Novara, passando il turno di Coppa Italia. È andata bene anche la primavera, ma avevamo fatto uno short per raccontare il 4-0 in quel di Udine. Va bene, va bene, va bene, arriviamo. Allora, ero a San Siro, l'avete visto nel video di questa mattina, in un contesto surreale, ve lo debbo raccontare, era un contesto veramente incredibile, tutto esaurito, sa va san dir, come dicono i francesi, ad un certo punto, a qualche minuto dall'inizio della partita è arrivata la notizia del 2-1 della seconda, terza, quarta, quinta squadra di Milano, quella dai colori che sono scuri e brutti. E poi a un certo punto c'è stato un urlo, ho detto vediamo il cellulare, e infatti aveva segnato Junior Messias, e allora così era iniziato in un clima un po' di festa. Poi ha pensato bene Pioli di schierare una formazione che io personalmente ho trovato strana, posso dirlo, strana, non dico, secondo me è sbagliata, però va bene, va bene, va bene, non lo voglio criticare, è la prima giornata, va bene così, sta facendo sperimentazione, è giusto così. Calabria, maniamo in porta a Calabria, Tomo Ricciao e Salema Chiar. Ora, con questa difesa è chiaro, poi io non voglio mancare di rispetto a nessuno, ho al mio vicino detto per favore non fischiamo Calabria, è uscito tra i fischi, non era la serata, non è stato giusto farlo, io chiaramente non l'ho fatto, ho ripreso quello vicino a me, perché? Perché voglio dire, se mi vai a fischiare Calabria ieri sera, che alla fine ha fatto la sua onesta partita, c'erano giocatori, vedi Leauda prendere a calci nel sedere, metaforicamente parlando, per cui non era la serata, chi l'ha fatto ha sbagliato, secondo il mio punto di vista. Comunque Calabria non è per andare a vincere lo Scudetto, la Champions League, come la coppia Ciao Tomori, ciao sull'autogol, possiamo dirlo imbarazzante? È un autogol da ragazzino, è un autogol da persona che non può essere definita professionista, vabbè comunque, e poi sulla sinistra io avevo detto Teo Hernández, ma non è che l'ho detto perché qualcuno mi ha telefonato, perché la logica vuole, ma adesso noi siamo andati con una squadra senza, Pavlovich, Teo Hernández, Morata, Morata è entrato dopo perché dovevamo recuperare, tra un po' chiamavano anche a me, Morata, una battuta, Morata, Emerson Royale, nessuno della primavera, del Milan under 23, insomma una squadra che ha visto in attacco Kijovic, cioè ma metti, allora già con il trofeo Berlusconi, io c'ero, Okafor ha fatto molto meglio, al di là dei gol, che poi il gol al di là ha fatto molto, ma a sto punto se non vuoi, cioè cerca di fare la partita di presentazione, di inaugurazione con Teo Hernández e Morata, vedi come va e poi magari li togli, ma non che mi entri con Calabria, Tomori, Ciao, Salemacher, terzino sinistro, una volta giocava a tre con Salemacher che saliva e poi Calabria, Tomori, Ciao, e davanti Loftus Cic, Benasser, Loftus Cic, la sua fisicità, spero che prima o poi venga fuori, Benasser mi sembra un giocatore fuori progetto, perché insomma le sirene si sentono, ma lasciamo perdere che loro hanno fatto, al di là degli errori, l'ha fatto anche Reinders quando ha preso quel tunnel da ragazzino, insomma gli errori ci sono stati anche tanto, e poi Ciucuese, Ciucuese irriconoscibile rispetto, anche Salemacher ha fatto una leggerezza sul gol, comunque Ciucuese irriconoscibile rispetto alle amichevoli, ora io sono frastornato tra il fatto che non mi piacesse, il fatto che ho chiesto scusa perché nelle amichevoli è diventato, adesso non voglio tornare indietro perché solo 90 minuti non possono fare questo, però ieri è stata una partita dove lui era lontano, lontano, Pulisic ha fatto il suo, Leao, Jovic, no, no, Leao, basta, cioè Leao se devi continuare a ciondolare e sbagliare quei gol clamorosi, sinceramente, sinceramente io direi anche di no, io non lo so, volevo azzardare delle pagelle, ma francamente non credo che, però, 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 c'è la buona notizia, va bene, è così, e cioè che in effetti Ibrahimovic smentisce Fonseca, Ibrahimovic si è spaventato tra virgolette del Milan che senza megnà ieri al primo tempo chiudeva, io ieri era con la mia crew, ciao crew, faccio gli auguri, oggi è il nostro anniversario di matrimonio, applauso, applauso, grazie a tutti quelli che faranno gli auguri, ma, eh sì, si è sentito un urlo, vabbè, sono in diretta, cioè tipo sto facendo il video, comunque ci fanno gli auguri, e si è un po' spaventato perché Megnà, che è il preferito della crew, ieri ci ha permesso di non scendere negli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo con quattro gol sotto, perché l'entusiasmo della fine non è che nasconde 85 minuti di M, e questo è il problema, comunque grazie a Megnà ieri non siamo scesi negli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo con un risultato decisamente più importante per il Torino, tra l'altro ieri era proprio la giornata della Gazzetta dello Sport, il suo padrone è proprietario del Torino e il suo partner è la seconda squadra di Milano, pensate se ci fosse stata la doppietta vince il Torino e vince l'Inter, ieri alla redazione avrebbero fatto champagne, ma torniamo alla partita, nel secondo tempo dicevo Ibrahimović si è spaventato perché hanno ricominciato loro, hanno fatto il 2-0, hanno avuto occasioni, la difesa ancor peggio di quanto io non la ricordassi, ma al di là di tutto questo smentisce Fonseca perché dice il mercato chiude quando lo dico io, ora mi auguro che in una serata come quella di ieri non sia stato l'ennesimo Ibrahimović dalle parti inese di Cesburone e non sia stato l'ennesimo Ibrahimović che non c'era da ridere ieri sera, ad un certo punto fischiati, ci sono già stati i primi fischi, per cui il mercato adesso è aperto, Fonseca non si sa con quale autorità l'aveva chiuso, Ibrahimović ha fatto notare di stare al suo posto perché il mercato non sarebbe chiuso. Ora devo essere sincero, io non so cosa vedremo durante questo anno, ditemi che non è questo il Milan, ieri ho detto di Pioli o ancora gli incubi, spero che fra qualche tempo non dirò ancora Fonseca, però dicevo non so cosa vedremo con la formazione tipo Mignan, Emerson Royale, Pavlovich, Tomori, Theo Hernandez e poi ancora Morata che quando è entrato ha fatto. Un gol che è stato annullato giustamente per fuorigioco, un rigore che debbo ancora rivedere, ditemi voi se c'era oppure meno, io così d'impatto ho avuto l'impressione che non ci fosse, ero sopra diciamo così, però per me c'è sempre rigore per il Milan, ha fatto un bellissimo gol come un bellissimo gol l'ha fatto Ocafor e insomma Morata è un attaccante, è uno che fa reparto, è uno che ci mette grinta, io a un certo punto dove sta eccolo qua, mi sono scritto la formazione e mi sono detto Mignan, ma sono dieci, 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 chi ho lasciato? Jovic, ma cosa sei venuto a fare? Vabbè non è colpa sua, ragazzi io non so, fatemi dire che l'hanno pareggiata Mignan e il tifo come ho detto stamattina, Mignan perché ci ha permesso di essere sotto di solo di due gol e alla fine l'hai recuperata, il tifo era, io personalmente sono anni che vado negli stadi, sarà che era la prima partita ancora di più, sarà sarà sarà, ma è stato clamoroso, cioè ancora 5 minuti e la buttavamo dentro per il 3 a 2, ancora 5 minuti eh? E' andata così, ragazzi è andata bene, va bene Fonseca sta facendo gli esperimenti, ancora diamo fiducia al Milan che verrà perché mancavano troppi elementi, mancava Teo, dicevo, mancava Reinders, facciamo perdere che ha preso il tunnel, insomma mancava Pavlovich, mancavano un po' di giocatori e poi buona notizia, il mercato è aperto, il mercato non è chiuso, Ibrahimovic zittisce dopo la partita, Fonseca, primi segnali, no dai scherzo, forza mister, forza mister, io ieri c'ero a San Siro eh, ho urlato tutto il tempo, ho fatto il tifo, ho applaudito, dopo vi critico, però quando stiamo lì facciamo l'amore tutti insieme, ciao ragazzi!